E' la malattia, e' la malattia per la testa. E' la malattia, e' la malattia per la testa, e' la malattia per la testa. E' la malattia per la testa, e' la malattia per la testa. E' la malattia per la testa, e' la malattia per la testa, e' la malattia per la testa. E' la malattia per la testa, e' la malattia per la testa. E' la malattia per la testa, e' la malattia per la testa. E' la malattia per la testa. E' la malattia per la testa, e' la malattia per la testa. 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 Non c'è, non c'è, non c'è. Grazie. 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 Subito. Non ce l'ha fatta, dai. Grazie. 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 Sì, è la mattina. Grazie. 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 Va bene, va bene. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Fa un discorso importante, per fare un discorso importante ci vuole il cinto delle carmi, una regia. Vieni! Buona! Grazie a tutti. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Buono loro! Buono, la secca diese, il cazzo! Vai, vai, vai! Buono! Buono! Vai, vai! Da dove niente? Non è ad ammunizione quello... Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.